Allora, buonasera. Abbiamo il grande piacere e onore di avere con noi il massimo responsabile delle nostre forze armate, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavodragone, che saluto e ringrazio di cuore per essere con noi. Grazie, buonasera a tutti. Considero questo applauso ovviamente rivolto a tutte le nostre forze armate, a tutti i nostri militari, specialmente in questi giorni, in questi mesi impegnati a difendere la nostra sicurezza. Ammiraglio, cosa faceva lei nella notte fra il 23 e il 24 febbraio? Tradotto, se l'aspettava? Non posso dirlo perché c'è mia moglie qua. No, no, ero a casa, giuro. È stato inaspettato fino a un certo punto perché già da novembre dell'anno precedente c'erano avvisaglie di movimenti, circolavano notizie e informazioni su questo attivismo della Federazione e anche della Bielorussia, però cadeva anche, se vogliamo dirla tutta, cadeva anche un po' in un modo comportamentale che a volte ricorreva, che serviva o alzare la tensione o a vedere la risposta diciamo dell'alleanza della Nato e quindi raccogliere un certo numero di dati che possono sempre essere utili per l'eventualità che accada sul serio. Quindi erano movimenti che a volte c'erano già stati. Probabilmente si percepiva già che erano fatti in maniera un po' più incisiva e credo che il dispositivo più o meno si valutasse che fosse già pronto da una decina di giorni. Quel dispositivo che è stato valutato che se fosse stato dato l'ordine era quello che sarebbe intervenuto. Quindi nell'area c'era già qualcosa, però tutto sommato credo che un po' con un approccio abbastanza utopistico, tutti quanti sperassimo che fosse un'ulteriore esercitazione, che fosse un'ulteriore prova muscolare e che non sfociasse poi in quello che è sfociato realmente. Ecco, io approfitto, ma penso che anche tutti voi che ci ascoltate sarete particolarmente interessati, approfitto di lei a Miraglio perché ha ovviamente una competenza tecnica superiore. In questo Paese la cultura militare e la cultura strategica purtroppo non è ancora molto diffusa. Quindi le chiederò qualcosa di più specifico. Detto in maniera più semplice, è immaginabile tenere 200.000 uomini per mese al confine di un altro Paese e poi rimandarle a casa come se non la fosse? Cioè, voglio dire, queste mobilitazioni non creano di per sé una pressione sul decisore politico? Ma sicuramente sì, anche perché è uno degli scopi. Però i 200.000 uomini avevano uno scopo differente a quello che è stato conseguito. Cioè, erano partiti per un'idea totalmente alternativa rispetto a quello che è successo. Doveva essere una guerra lampa, dovevano arrivare a Kiev, dovevano cercare di sovvertire, diciamo, di disarcionare il governo Zelensky e avere un governo fantoccio, come è successo tante volte in passato. Non sono nuovi. La mentalità della Federazione e dell'Unione Sovietica non è nuova a questi colpi, però non è successo. Quello che era la volontà e il disegno strategico iniziare non è successo. Si sono trovati fronte a determinati fattori particolarmente inaspettati e hanno poi riorientato il proprio atteggiamento sulle zone a sud-est. Certo, perché evidentemente invadere un paese grande il doppio del nostro con 200.000 uomini è una contraddizione inammissibile per qualsiasi, diciamo, strategico. No, assolutamente non era però nei piani, non era prevista un'invasione totale, non era previsto tenere un territorio che sarebbe stato impossibile farlo con quelle forze, non era previsto coprire tutto il territorio. Era soltanto una lancia doveva arrivare a Chieve in breve tempo, 3, 4, 5 giorni, risolvere l'equazione e poi probabilmente, non dico ritirarsi in tranquillità, però sicuramente l'effetto che si proponeva alla Federazione non è stato conseguito, assolutamente. E qui si ricorda ancora una volta che le guerre e tu le programmi poi iniziano e prendono un corso che tu non hai minimamente previsto e questo evidentemente è molto significativo e molto grave. La resistenza ucraina, nessuno, pochi comunque, si aspettavano una resistenza così dura e così efficiente. Naturalmente molto è stato anche dovuto al fatto che negli anni precedenti americani, britannici e altri paesi atlantici hanno preso un esercito che stava ai piedi di Cristo e ne hanno fatto una forza armata, oggi probabilmente se non la più potente, una delle più potenti in Europa. E tuttavia, come spiega lei in questa fase, almeno della guerra, il fatto che gli ucraini siano addirittura potuti passare alla controoffensiva, come vediamo da questa carta? Sì, l'elemento, la forza dei combattenti ucraini è rinaspettata soprattutto da parte della Federazione Russa. Quello che adesso, su cui stiamo esaminando adesso, quello che sta accadendo adesso, quindi l'evento, la controoffensiva, io la prenderei con le pinze, nel senso che può essere anche letta come un'attività che viene fatta dalla Federazione Russa, una ritirata pilotata per consolidare posizioni a est del Dnepr, per bloccare l'avanzata, cioè per affiaccare l'avanzata ucraina su un punto, su una zona dove sarà difficile proseguire riaffondare ulteriormente l'offensiva. Come diceva lei, le forze armate ucraine non sono quelle della Crimea del 2014, tante cose sono cambiate e in effetti l'hanno dimostrato sul campo. Io credo che adesso questa offensiva debba essere valutata in un arco di tempo un pochettino più lungo rispetto a quello che sta accadendo adesso, deve essere interpretata secondo me, perché c'è da vedere, innanzitutto si attesteranno a est del fiume Dnepr i russi, anche perché in attesa ci sarà un slittamento dell'approccio alla guerra molto più statico, molto più da trincea, molto più di attrito e questo comporterà l'inverno e forse la prima parte del prossimo anno. Bisogna vedere innanzitutto, ci sono un paio di fattori, due o tre fattori in considerazione per leggere e verrà fatto col tempo questa mossa, sono innanzitutto l'effetto delle sanzioni che è un effetto che è direttamente proporzionale al tempo che passa. Bisogna vedere come agirà l'inverno in arrivo, quindi come sarà questa guerra di attrito, se effettivamente sarà statica o comunque sia avrà degli accenni di consolidamento delle posizioni nell'auspicio di una futura fase negoziale, quindi nessuno vuole andare in una fase negoziale nella posizione di debolezza. Io presumo che ci sarà questa sistemazione delle forze in campo, ma sicuramente prima di una fase negoziale entrambi giocheranno una carta per cercare di rafforzarsi ulteriormente e avere un leverismo maggiore. Il terzo elemento da tenere in considerazione è l'effetto della mancanza di idrocarburi. posso diventare nel tempo un'arma spuntata, anche perché io perlomeno parlo da normale italiano, mi aspetto un inverno rigidissimo, probabilmente poi la risolveremo con un maglione in più, bisogna essere anche un po' realisti in questo. Questo lo voglio dire, voglio dire che il periodo di analisi deve essere di due o tre mesi e potremo vedere se testarsi in questa situazione più statica avrà dei risultati. Io spero che possa portare a una fase negoziale. Sì, noi vediamo anche in maniera molto precisa come i russi si siano ritirati e abbiano cominciato a sistemare per esempio i denti di drago nella pianura del Donbass e come appunto profittino della frontiera naturale che è data da un grande fiume come il Dnieper. Però come sappiamo l'Ucraina è molto pianeggiante, quindi tenere una linea non è facile immagino anche tecnicamente. Quello che mi pare adesso importante capire è se siamo ottimisti, mettiamo che si arriva per qualche miracolo a qualche accordo di cessate il fuoco. Come si può ottenere un cessate il fuoco in questo tipo di territorio e con questo tipo di attori? Gli attori sono due teste dure, quindi anche questo non rende la situazione facile. dovranno perdere più o meno, cioè la comunità internazionale dovrà cercare di guidare questo processo in modo tale che entrambi perdano in maniera più o meno equa. Nel senso intanto per il Presidente Putin non si può non cercare non una via d'uscita onorevole, ma almeno non disonorevole, perché si è infilato in un ginepraio che credo onestamente sia un pochettino più grosso di quello che lui si aspettasse. Dall'altra parte, dall'altra parte, queste conquiste territoriali fatte dalla Federazione Russa, secondo me, con il manpower, con la capacità bellica che ha l'Ucraina, non riesce a riconquistarle. Non c'è la possibilità militarmente di riprendere i territori che attualmente sono in mano alla Federazione Russa e gli verrà dato il tempo, appunto durante l'inverno, di consolidare le proprie posizioni, di accorciare la catena logistica che è stato uno dei problemi. Quindi secondo me questa ritirata in cui non ci sono grossi combattimenti, ma è abbastanza sintetica come evento bellico, abbastanza settico, serve anche per accorciare quella catena logistica che la Federazione Russa non è stata capace di supportare nelle fasi iniziali del conflitto, le fasi seguenti a quelle iniziali. Quindi ci sarà un consolidamento delle posizioni della Federazione Russa in questo periodo invernale, ci saranno i riservisti che verranno addestrati, che verranno portati nelle zone critiche, quindi secondo me qualcosa verrà perso anche dall'Ucraina. Quindi diciamo tecnicamente da un punto di vista militare è molto difficile che ci si muova di molto dalle linee attuali, questo mi pare di capire. Al momento attuale secondo me sì. Bisogna vedere poi anche qui, secondo me i prossimi mesi saranno abbastanza significativi per cercare di analizzare bene quello che accade sul terreno. Ovviamente le informazioni sono sempre deficitarie in guerra, capiremo forse qualcosa di più fra qualche decennio, ma noi sappiamo molto poco dei morti, in particolare sappiamo molto poco dei morti ucraini. L'altro giorno il suo omologo americano, il generale Milley, ha parlato di circa 100.000 morti da parte russa, morti e feriti, in perdite, e di altri 100.000 da parte ucraina, diciamo in un rapporto da 1 a 5 tra morti e feriti, 20.000 morti e 80.000 uomini fuori combattimento. Ecco, ma il fattore umano in qualche modo pesa, cioè fino a che punto russi e ucraini, in particolare considerando anche il diverso peso demografico, possono permettersi di mandare a morire tanta gioventù senza pagare un prezzo. Non se lo possono permettere, no, in effetti, però la situazione che si è generata è questa. Il fattore umano dal punto di vista della motivazione è stato determinante, abbiamo visto, appunto dalla parte ucraina, perché vedere dei capi famiglia che accompagnano le proprie famiglie al confine con la Polonia e poi tornano per combattere, parliamo anche di cinquantenni, senza nulla togliere i cinquantenni, però in effetti è significativo questo approccio. Dall'altra parte non c'è la stessa motivazione, sicuramente si è visto nella famosa colonna che doveva raggiungere Kiev, che si è sfaldata a strada facendo, che è stata oggetto di attacchi, mordi e fuggi, ma c'erano soldati russi che scappavano nei boschi senza combattere e quindi questo è stato un fattore. Non se lo possono permettere, per tornare alla sua domanda, probabilmente questo potrebbe essere un elemento che andrà ad influire sulla volontà a un certo punto di sedersi a un tavolo, perché stanno perdendo vite umane senza tutto sommato conseguire quello che entrambi vorrebbero, ovvero un atteggiamento di un governo differente in Ucraina, perché ricordiamoci che il scopo iniziale era questo, che garantisse il non ingresso nella Nato, il non ingresso in Unione Europea, eccetera, eccetera, da una parte e dall'altra la ripresa dei territori che secondo me è abbastanza improbabile. Quindi si stanno ammazzando, si stanno massacrando probabilmente in questa fase per il nulla. Ovviamente sappiamo che i paesi della Nato, chi più chi meno, non tutti peraltro, stanno dando un notevole contributo, quantomeno in termini di armamenti, alle forze armate ucraine, anche il nostro paese ne sta dando, so che tutti questi dati sono secretati, qualcosa è trapelato, ma io penso che qui c'è anche proprio una dimostrazione un po' della nostra carenza di cultura militare. In altri paesi i dati vengono addirittura sbandierati, nel nostro, mi permetto di dare una mia interpretazione, non vengono dati perché altrimenti sarebbe già cascato il governo. Però questo è il dato di fatto. Il dato è che noi stiamo fornendo armi, diciamo, anche di un certo peso agli ucraini. Lei pensa che questo tipo di forniture possa continuare, sia per quanto riguarda l'Italia, sia per quanto riguarda gli altri paesi europei, lasciamo stare gli americani che è un discorso a parte, ancora molto a lungo, per dirla più chiaramente. Che cosa ci resta a noi? L'importante è che possono cascare i governi che non cassi il capo di Stato Maggiore della Difesa, è un po' fondamentale. Confesso che è difficile fare slalom tra le domande del Dottor Caraccio. Non è obbligatorio fare slalom. No, no, no. Noi siamo incastonati nell'alleanza, ci siamo sempre mossi in sintonia con quelli che sono le direttive, le indicazioni dell'alleanza e dell'Unione Europea, quindi continueremo a farlo. Cosa ci rimane? Noi dobbiamo, ovviamente, ma questo è comune, l'ho vissuta in tutte le riunioni che abbiamo fatto, è comune a tutti i paesi dell'Unione Europea, cioè dobbiamo continuare a supportare l'Ucraina perché è un momento in cui ha bisogno che ciò accada, facendo salvi gli impegni che abbiamo noi e quello che è necessario garantire per la nostra sicurezza e per gli impegni che abbiamo preso nell'ambito delle alleanze. Quindi queste sono le due facce della medaglia che dobbiamo tenere sempre in considerazione. Lo stiamo facendo, sarà continuato il nostro supporto all'Ucraina nei termini in cui Nato e Unione Europea decideranno di farlo, ma credo che ci sia questa intenzione perché non è pensabile mollare adesso uno sforzo, anche perché manificheremo tutto quello che è stato fatto. Onestamente, se l'Ucraina è in queste situazioni, cioè ha arginato e ha comunque obbligato l'avversario a sovvertire le proprie intenzioni strategiche, è perché sono dei grandi combattenti e una grande nazione, probabilmente dal punto di vista dell'amor patrio all'Ucraina, lo sta dimostrando e anche perché alle spalle ha avuto la comunità internazionale, parliamo della Nato e dell'Unione Europea che li ha supportati. Quindi secondo me continueremo sulla falsariga di quello che l'Alleanza ci dirà, suggerirà nell'ambito del supporto totale alla causa ucraina. Più che di comunità internazionale parlerei di comunità occidentale, perché poi ci sono posizioni abbiamo visto molto diverse. Ancora riguardo a questo scenario, tutti pensavano, almeno persone non così competenti come lei, tutti pensavano che comunque la Russia fosse una tale potenza che in un modo o in un altro avrebbe avuto ragione degli ucraini. Lei ha cambiato il suo giudizio sulle forze armate russe dopo quest'operazione oppure si tratta di un incidente di percorso? Ma insieme a me credo che l'abbiamo cambiato in tanti. Se posso dire, posso riassumere, è stata un po' una delusione. La macchina bellica della federazione io mi aspettavo, quella convenzionale, è quella che è stata messa in campo. Mi aspettavo ovviamente che avesse diverse performance. Secondo me, cosa è mancato, cosa ci ha deluso, se mi passate il termine, la leadership. Non sembra ci siano le fasce, cioè quando cade un generale si sgretola tutto, che invece dovrebbe essere i colonnelli, che anzi notoriamente colonnelli sono molto più affidabili di generali, ammiragli in genere. Però questo non è accaduto. In tutte le occasioni in cui c'è stato il vertice che crollava e cadeva, non c'è stato un elemento che potesse continuare con l'impeto che era stato dato all'inizio ai reparti della federazione. Un'altra cosa, come dicevo, è stata la catena logistica che non li ha sopportati e quindi questo ha creato grossi, ha creato delle teste di ponte che però non avevano possibilità di essere supportate nell'attività di fuoco che dovevano portare avanti e quindi tanti ritiri delle federazioni sono dovuti a questo aspetto qua. Ci sono tantissimi eventi di ritiro dei reparti della federazione senza grossi colpi di fucile, grosse schioppettate perché questo è quello che si è verificato. Quindi se possiamo dirlo, oltre ovviamente alla motivazione del soldato medio russo che è veramente bassa, si parla anche di materiali abbastanza scadenti, contrariamente a quello che avrebbe dovuto essere e che ci si aspettava, un po' per problemi di mercato nero, credo, un po' perché in effetti anche il materiale che potremmo definire di punta non è poi così al top come pensavamo. La macchina della guerra della federazione è stata un po' una delusione in questo senso qua. C'è il rischio, come qualcuno sostiene, anche gli americani sostengono che una quota rilevante degli armamenti che noi diamo agli ucraini finiscano le mafie? Mi garantiscono che ciascun elemento che parte da noi viene opportunamente registrato da noi e viene preso a carico da un elemento delle forze armate ucraine. Spero che sia stato fatto tutto in questo senso qua da parte di tutti quanti e mi auguro che funzioni. Lo vedremo poi al termine di tutto quanto perché in effetti quando scoppierà la pace ospicabilmente l'Ucraina avrà un certo arsenale che in un modo o in un altro non è che possa continuare a disporre di tutto questo materiale anche perché rientrerà presumibilmente ai legittimi proprietari perché in effetti gli è stata fornita parecchia roba. Come spiega lei che i russi non abbiano bombardato o abbiano significativamente colpito le linee logistiche di rifornimento che dalla Polonia portano rifornimenti di ogni genere tra cui armi e l'Ucraina? Come mai? È uno degli interrogativi che ci siamo posti che per adesso non trovo risposta. È come quello dell'impiego abbastanza ridotto dell'aviazione. Anche l'aviazione della federazione è una una signora forza armata ed è stata impiegata, ovviamente è stata sottoimpiegata al di là dei bombardieri strategici che da lontano lanciano i loro missili cruise, però ecco non c'è stato impiego sul territorio di attività di supporto tattico ravvicinato, per esempio le truppe, quindi con velivoli, con elicotteri che fossero in diretto contatto con la linea di fuoco, questo non è avvenuto. Qualche elicottero è stato abbattuto, non credo però quello abbia imposto un atteggiamento così cautelativo. È un interrogativo a cui non so rispondere insieme a quello dell'impiego sottodimensionato dell'aeronautica? Forse perché questa è anche una guerra civile per certi aspetti, cioè se è vera la teoria che non è vera peraltro di Putin, che sono un popolo solo, non puoi andare a colpire troppo pesantemente quello che tu consideri lusso, tra l'altro. Quindi c'è forse anche questo aspetto, ma è un elemento di discussione. Però quello che possiamo immaginare è che Putin almeno sperasse qualcosa del genere, la nuova Russia, che non è un progetto di Putin ma che poi è stato declinato in questo modo. E qui vorrei sottolineare, approfittando anche del fatto che lei è un marinaio, di ricordare che questa è anche, per certi aspetti, forse direi quasi soprattutto una guerra marittima. Perché? Qual è l'obiettivo strategico che la Russia in un periodo non immediato può immaginare per far fuori l'Ucraina? Tagliarli il passaggio al mare, tagliarla fuori, farne uno stato chiuso senza sbocco al mare e quindi l'importanza evidentemente di arrivare a Odessa, eccetera. Però questa ipotesi è saltata, non è saltata però la realtà che il mare di Azov è ormai un lago russo. Il mare di Azov significa poi passare attraverso i canali del Don, del Volga, poi attraverso il Caspio, eccetera, arrivare fino al Mar Bianco con una serie di canali. La flotta del Mar Nero, la flotta di Sebastopoli, in questo momento è più capace di bloccare l'Ucraina, i porti ucraini, oppure è più sotto schiaffo e quindi è sulla difensiva? La flotta del Mar Nero ha preso una scopola grossa con l'affondamento della Mosca, però oggi a oggi ci sono 4-5 unità navali che stanno operando con missi di cruise dal Mar Nero sull'Ucraina. Quindi per adesso non è ancora un atteggiamento particolarmente difensivo, si sentono relativamente tranquilli. Hanno avuto un paio di episodi, però credo che abbiano preso le giuste contromisure e adesso stanno a un atteggiamento abbastanza aggressivo in questo momento. E ci avviciniamo a casa nostra, grazie al mare, ci avviciniamo a casa nostra e ci avviciniamo qui nello scenario, beh, tanto questo è il mare di Azov, perché si mostra attraverso questa carta in maniera molto chiara l'importanza di controllare il mare di Azov per avere accesso più diretto alla Crimea e poi c'è questa vicenda di Kherson che ha un valore molto importante anche proprio per il mantenimento da parte russa del controllo della Crimea, dato che lì ci sono le fonti d'acqua fondamentali per la Crimea, quindi è molto importante perdere o guadagnare. E c'è anche la diga di Nova Calovre che a oggi sta reggendo. Certo, e poi lì sopra il mare di Azov passa la famosa autostrada M14, quella lungo la costa, che ha un valore strategico e logistico particolare. quando ci è venuto a trovare il nostro amico George Friedman, che è uno dei più influenti e brillanti analisti geopolitici americani, e abbiamo parlato della guerra, di questi scenari, abbiamo parlato dell'Italia, gli ho chiesto che cosa fosse l'Italia dal punto di vista americano e lui ha detto, beh, l'Italia è un paese che ci deve dare una grossa mano nel controllo del Mediterraneo. E questo è molto importante, noi a Limes abbiamo un po' una fissazione, grazie anche al contributo della nostra marina militare, abbiamo cercato in questi due o tre anni di insistere molto sulla marittimità. Chiunque veda l'Italia da fuori capisce immediatamente che da un punto di vista geopolitico lì siamo e lì abbiamo la maggior parte delle nostre responsabilità. In questa carta, forse con un po' di fantasia o forse no, abbiamo cercato di illustrare quello che è un movimento che in realtà da diversi anni i russi stanno facendo, ripercorrendo antichi tracciati sovietici, cioè quello di rientrare nel Mediterraneo, dove ai tempi della guerra fredda avevano anche 60-70 navi, oggi ce l'hanno, mi correga se sbaglio, più o meno una trentina, facendo leva sul porto siriano di Tartus e poi proiettandosi anche con i sottomarini lungo i nostri mari, in Adriatico e sotto il canale di Sicilia e così via. Quindi una sorta di aggiramento da sud della Nato, visto che la Nato si espanderà ancora di più a nord, una sorta di contromossa che si svolge proprio sotto il naso di casa nostra. Come vede lei questo ritorno russo nel Mediterraneo e come vede lei anche la replica americana, visto che abbiamo avuto per un bel periodo anche due gruppi portieri nel Mediterraneo, che è una roba che non si vedeva da decenni? I gruppi portieri americani inizialmente prima che scoppiasse la crisi federazione russo-ucraina era destinato ad andare in Indo-Pacifico, poi è successo il patto track il 24 febbraio ed è rimasto stabile in Mediterraneo con un turnover, la presenza dei due probabilmente è il momento in cui Truman e Bush si danno il cambio. È stata una presenza a torto collo perché l'idea su cui c'eravamo tutti quanti orientati era che Italia, cercando di catalizzare anche l'attenzione degli altri paesi sulla sponda nord del Mediterraneo, quindi Francia, Spagna, Grecia, Turchia, anche se prendesse il carico della responsabilità del Mediterraneo in situazioni normali. Questo non è avvenuto, quindi la presenza del gruppo portaerei americano in Mediterraneo. L'importanza del mar Mediterraneo, e poi allarghiamo il discorso anche al Mediterraneo allargato, perché noi abbiamo abbastanza questa identità che secondo me rende bene l'idea di quelli che sono i nostri interessi. L'importanza del Mediterraneo era già abbastanza rilevante prima della crisi ucraina. Ora, adesso ce l'ha, ma ancora di più l'avrà poi in futuro, sarà la cassa di risonanza di tutto quello che nascerà da questa crisi e che si riverbererà sicuramente in primo luogo sul mar Mediterraneo. È abbastanza significativo notare che la Russia, quantunque impegnata in Ucraina, quantunque non in grado di conseguire i suoi scopi, abbia in assolutamente minima parte sguarnito le proprie posizioni in Libia, una parte specificamente cirenaica in Egitto, nella Repubblica Centro-Africana, in Mali, anzi ha incrementato Wagner, la consideriamo come Federazione Russa ovviamente. Non c'è stata una presumibile ricollocazione nel fronte che non dava risultati sperati da parte di queste forze, che possiamo considerare forze d'elite per loro. È soltanto in minima parte, è soltanto una batteria di SA400, credo che si sia spostata dalla Cirenaica in Ucraina, quindi poca roba. Questo vuol dire dell'importanza che la Russia sta dando a questa sua penetrazione in questi teatri che non vuole assolutamente mollare. Io parlavo prima del grande Mediterraneo allargato, che per noi va dal Golfo di Vinea, passa sul Mar Mediterraneo propriamente detto e va a finire in Oceano Indiano, diciamo nella zona del Golfo Persico, mare arabico del nord. Noi in quest'area qui siamo più o meno presenti in differenti connotazioni, però è un qualcosa che interessa sicuramente il nostro Paese. La presenza russa in questa fascia qui è quella che ci preoccupa di più, perché è quella che sta incrementando, che si sta radicalizzando in maniera più incisiva. Io credo che il Mediterraneo, e parlo di Mar Mediterraneo, assumerà un'importanza ancora maggiore, ma soprattutto dobbiamo renderci conto in Italia, e non so se tutti l'hanno capito, che le nostre responsabilità di italiani, di Paese d'Italia, in Mediterraneo, con quello che accadrà per mantenere la stabilità, sono molto aumentate. Sì, anche perché se stiamo vivendo come stiamo vivendo una transizione da gas a gas, dal gas russo al gas algerino al gas mediterraneo, insomma il gas algerino ci arriva a via mare. I giacimenti più promettenti sono nel Mediterraneo orientale. Se dovesse aprirsi la prospettiva di una Turchia, nuovo hub gasiero energetico, anche riportando un po' di gas russo sotto mentite spoglie verso l'Europa, insomma il controllo dei mari è fondamentale. Poi quello che voi in Marina avete battezzato da tempo Mediterraneo allargato, e che noi abbiamo reinterpretato, ma è la stessa cosa, come Medioceano, cioè non vedere più il Mediterraneo semplicemente come un mare nord-sud, ma soprattutto come un mare est-ovest, che collega il teatro indopacifico della Guerra Grande all'Atlantico, che è il nostro, diciamo, oceano canonico di riferimento. Ecco, quindi sicuramente la partita marittima per noi è vitale, perché sappiamo che l'Italia senza una tranquillità e una libertà di navigazione nel Mediterraneo è semplicemente un paese finito. Ecco, sotto questo profilo, come valuta lei le incursioni russe, in particolare di sottomarini russi, qual è il loro grado di pericolosità e come facciamo noi a più o meno controllare quello che stanno facendo? La presenza russa, la dinamicità della flotta della Federazione russa in questo contesto ha due scopi. Uno avrebbe voluto essere il turnover per la flotta del Mar Nero, che però ovviamente per il trattato di Montigo Bay non ci sarà in quanto lo stretto, in quanto il bossolo è chiuso. E l'altra è quella di, da una parte testare, esattamente quello che è successo con l'elongazione nel Mar Adriatico, testare il sistema, diciamo, del sistema alleato di come reagiamo, raccogliere un certo numero di informazioni, dati su emissioni o quant'altro e metterci comunque sotto pressione, nel senso che in effetti ha generato una maggiore attenzione e un maggiore impegno da parte delle navi italiane sicuramente, ma come diciamo quelli della sesta flotta e anche francesi che hanno lavorato in simbiosi con noi in vari episodi. In più c'è stato l'evento Nord Stream che ha obbligato nell'ambito della guerra cognitiva, quando è uscito fuori questa allarme semi-gestibile dell'evento sul Nord Stream, a uscire sulla stampa con qualcosa di tranquillizzante, perché in effetti il controllo delle dorsali che sono in Mediterraneo, che dall'Africa del Nord portano combustibile alle nostre coste o tutte quelle che sono interessate al trasferimento dati, sono costantemente controllate dalle nostre navi, il Mediterraneo è pattugliato e chiaramente se c'è dell'attività su queste dorsali può essere fatta o da sommergibili e quindi vanno tenuti sotto controllo, vanno tracciati, oppure da navi di superficie appositamente attrezzate per andare ad agire sulle dorsali subacque e quindi queste devono essere oggetto di una situazione controllata della superficie che ci indichi che nulla sta avvenendo come sta succedendo, nulla sta avvenendo sott'acqua. Però è un problema che deve essere affrontato in maniera massiva. E c'è un'altra potenza che si sta affacciando sul Mediterraneo in maniera sempre più forte e della Turchia, che è un paese formalmente parte della Nato, ma che insomma vediamo muoversi con una certa agilità in base a quelli che ritiene essere i propri interessi e con una proiezione in particolare nel Medioceano, ma in Africa, verso il Mar Rosso, eccetera, particolarmente visibile. Come sappiamo la Turchia non è un paese in relazioni eccezionali con la Francia e viceversa, però sono i due paesi che in qualche modo insieme al nostro sono più presenti nel Mediterraneo. In particolare ricordiamo sempre che Tripoli adesso è sostanzialmente in mano ai turchi e questo cambia un po' l'equazione del Mediterraneo. La Turchia sta cercando di svolgere una funzione anche di mediazione nel dialogo piuttosto fra sordi che riguarda ucraini e russi. Come valuta lei l'atteggiamento della Turchia fino a questo momento e quali possibilità ci sono che la Turchia si muova anche, non dico contro, ma in maniera indipendente i paesi alleati? Di tutta l'alleanza probabilmente la Turchia è quella che è un pochettino più effervescente. Credo che di tutta l'alleanza la Turchia il miglior dialogo l'abbia stabilito con noi, con gli italiani attualmente. Questo ci è riconosciuto sia dalla Francia e anche dalla Nato e operiamo per cercare di essere un po' i demodulatori, gli entry e exit point per un dialogo un pochettino più comprensivo, più proficuo tra Turchia e tutto il resto dell'alleanza. Io credo che le cose stiano funzionando adesso, personalmente ho un ottimo rapporto come omologo e penso che la Turchia al di là del fatto che è molto assertiva sia sul fronte nord, quindi si pone come elemento di mediazione o di dialogo tra Ucraina e Federazione russa con risultati alterni, concretamente non è ancora successo niente, però sicuramente ha questo ruolo. Supporta l'Ucraina ma in maniera abbastanza discreta. Credo che sia da parte francese, che da parte turca stessa ci sia la volontà di cercare di smussare gli spigoli che sono verificati ultimamente e questo posso dirlo anche nei confronti della Grecia, cioè dal punto di vista, probabilmente io parlo dal punto di vista militare, prettamente c'è forse molta più vicinanza o volontà di dialogo che non forse a livello politico, non lo so, questo posso dirlo come militare, ho notato questo addolcimento dei loro atteggiamenti e speriamo che si vada in quella direzione anche perché non serve a nessuno avere un elemento centrifugo rispetto a un'alleanza che tutto sommato si è dimostrata funzionare e si è dimostrata decisamente coesa alla prova dei fatti nella crisi federazione russo-ucraina. Diciamo che questo relativo ammorbidimento della tensione franco-turca è stato facilitato anche dalla fine della missione barcana e in generale dall'allentamento della presa francese sull'Africa, il che forse ci dovrebbe anche porre la domanda, ma che ci siamo andati a fare nel Mali, visto che i francesi si sono ritirati? Ci siamo andati in un momento in cui c'era necessità di supportare lo sforzo di guerra al terrorismo che la Francia stava facendo, abbiamo fatto con degli elicotteri per evacuazione medica e poi a un certo punto sono cadute le condizioni iniziali di ospitalità del Mali perché è stato anche qui un grosso ingresso a gambatesa della compagnia Wagner e questo ha fatto crollare il rapporto, chiamano, di fiducia e collaborazione tra la Repubblica del Mali e la coalizione che avrebbe dovuto aiutarli a combattere le frange terroristiche presenti in territorio e quindi a questo punto ci siamo ritirati, però io credo che l'operazione Barkhane non sia stata definitivamente spenta, ma probabilmente un'operazione Barkhane-like potrebbe riprendere in una sede differente. Anche se poi lì il paese strategicamente decisivo è il Niger, chiaramente, è quel paese su cui anche stiamo cercando di dirigere un po' di più la nostra attenzione. Un paio di considerazioni generali per concludere. Questa è la prima guerra in Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, di un certo peso anche globale, noi la chiamiamo una parte della guerra grande che comprende la tensione, speriamo che non sfoci mai in guerra tra Stati Uniti e Cina e un po' tutti i rapporti tra le maggiori potenze. Una delle due potenze in guerra diretta è una potenza atomica. Si può battere una potenza atomica? Sì, basta vedere il Vietnam, esattamente quello che è successo in Vietnam, il fatto di essere una potenza atomica non è automatico che l'arma atomica deve essere usata, abbiamo dimostrato che la deterrenza atomica o deterrenza nucleare non funziona perché se no non ci sarebbe la guerra, se funzionasse non ci sarebbe la guerra federazione russo-ucraina, può essere battuta, c'è una linea rossa che non va superata. Lei dice che non funziona più la deterrenza, siamo in un altro universo. Io ho un'idea mia, secondo me dobbiamo smistarci su un altro tipo di deterrenza, la deterrenza nucleare ha fatto la sua epoca e è ancora una pedina del gioco, però secondo me oggi noi dobbiamo orientarci e tutti quanti i paesi dell'Alleanza lo stanno facendo su una deterrenza tecnologica, cioè noi dobbiamo arrivare a una tecnologia talmente avanzata nell'ambito nostro che debba scoraggiare l'ipotetico avversario a ricorrere a mezzi violenti per la risoluzione di una crisi internazionale in quanto i danni sociali, economici, fisici, ma a tutto campo che ne trarrebbe da questa sudditanza tecnologica lo induca a non far scoppiare la guerra. Questo secondo me è il punto d'arrivo a cui dovremmo lavorare e d'altronde il vantaggio tecnologico l'Occidente lo ha sempre avuto, deve incrementarlo e deve lavorare su questo perché è l'unico, secondo me è l'unico nell'indeterminatezza di quale sarà la guerra futura, che potrebbe essere ibrida, potrebbe essere prettamente cyber, potrebbe essere convenzionale, non lo sappiamo, sicuramente non è mai successo che la guerra futura sia uguale a quella che stiamo vivendo adesso, quindi questo ci deve fare attenzione, però siccome noi abbiamo questa indeterminatezza di cosa potrà essere il conflitto futuro, secondo me l'assicurazione sulla vita che possiamo fare, l'unica a momento attuale è quella di avere un vantaggio tecnologico avanzato rispetto all'ipotetico avversario. Chi rilievo hanno in questa partita la dimensione cibernetica e quella spaziale? Mi faccio riferimento anche al signor Elon Musk che a quanto pare ha aiutato ovviamente in maniera decisiva, grazie a Starlink, la parte ucraina, poi improvvisamente un giorno ha pubblicato un suo messaggio in cui diceva, praticamente dettava le condizioni della resa dell'Ucraina, quindi un personaggio anche abbastanza singolare. Che importanza ha oggi lo spazio, mi riferisco soprattutto per il controllo anche del mare? Dunque, noi oggi siamo abituati a uno spazio come una dimensione, come un dominio da cui traiamo servizi, quindi comunicazioni, quindi osservazioni della terra, tempo, eccetera, eccetera. Se ricordiamo, mi sembra, non so se è la data giusta, ma 14 novembre 2021 la federazione russa con un missile antisatellite ha abbattuto un loro satellite oramai vecchio, obsoleto, che risaliva dal 1984. Musk l'ha interpretato come un avvertimento per lui. Eh, va interpretato così, perché tutti quanti siamo preoccupati di 1500 detriti, che non hanno fatto niente assolutamente, che sono disintegrati, ma il messaggio forte è stato che nello spazio, cosa che non accade adesso, ma accadrà, non so fra quanto, ma accadrà, si combatterà. Quindi ci dovrà essere uno spazio, lo spazio dovrà essere oggetto di attenzione, di sicurezza, quindi ci sarà necessità che la difesa intervenga in quella lì. Sta giocando un importante ruolo adesso per quanto riguarda le rilevazioni che vengono fatte, il targeting potrebbe essere un elemento sicuramente fondamentale. È una dimensione che dobbiamo abituarci a considerare, una dimensione in cui avverranno attività cinetiche e dobbiamo essere pronti a fare. Possono essere attività cinetiche come è successo quindi da terra verso lo spazio, ma anche spazio spazio dovrà essere preso in considerazione. Certo, certo. Beh oddio, se continua così, se continuiamo a lanciare migliaia di satelliti poi magari a un certo punto ci può essere una saturazione delle orbite basse, per cui praticamente ci chiudiamo dentro l'atmosfera terrestre, non c'è anche questa possibilità. Non c'è un governo dello spazio, non c'è una normativa e questo è un qualcosa che deve essere l'attenzione della comunità internazionale perché va normato lo spazio dello spazio. Diciamo che in generale in questo momento di governo ce n'è poco nel mondo, ma dobbiamo adattarci alla realtà. Ultima domanda. Un po' dappertutto nel mondo ci si riarma, molto anche in Europa. Abbiamo parlato stamattina con i nostri amici tedeschi, francesi e polacchi che avevano visioni se non opposte diciamo anche molto diverse. La Germania vuole diventare, lo dice il Cancelliere Scholz, dato che è la prima potenza economica, anche la prima potenza militare. La Polonia sta riarmando alla grande grazie soprattutto agli americani ed è diventato un po' il riferimento gioiellino a stelle strisce nella Nato. Noi non stiamo riarmando. Noi abbiamo un programma di ammodernamento dello strumento che prosegue secondo i nostri piani. Risponde alle esigenze che ci dovremmo trovare ad affrontare in futuro, quindi come dicevo con un grossissimo impatto tecnologico. Adesso con la determinazione a portarci al 2% del PIL entro il 2028, questo darà sufficienti garanzie di avere soprattutto una profondità di pianificazione almeno decennale che è una garanzia per non sprecare i soldi e per fare una pianificazione che sia effettivamente calibrata alla situazione che si può presagire accadrà nel prossimo futuro. Io credo che con i dovuti cave, soprattutto tenendo in considerazione che siamo un'azione che deve anche, ripeto, mi do la zappa sui piedi, ma ci sono aspetti sanitari, ci sono aspetti sociali che devono essere considerati e che probabilmente in determinati periodi vanno messi davanti alle esigenze di ammodernamento. Però io credo che se riusciamo a rispettare il programma che noi abbiamo stilato, che i miei predecessori e noi abbiamo stilato per il futuro, credo che saremo all'altezza delle aspettative e del livello di ambizione che il nostro Paese si vuole dare nell'ambito dell'alleanza, nell'ambito del Mediterraneo, come diciamo prima, e nell'ambito dell'Unione Europea con tutto quello che comporta una difesa europea e tutto quello che deve nascere e deve consolidarsi in futuro in questo campo. Quindi io credo che se tutto quanto va come deve andare ci sia il giusto equilibrio per soddisfare le esigenze dello strumento militare per i tempi che cambiano e anche fornire al Paese gli strumenti per crescere. Ammirale, io veramente le sono molto grato per, non solo per essere qui con noi, ma anche per avere illustrato a un pubblico molto vasto che va anche al di là di questa sala piena, alcuni aspetti tecnici militari, perché noi siamo un Paese che giustamente ha pensato da almeno tre generazioni di essersi emancipato dalla guerra e quindi abbiamo sviluppato una cultura di pace che però ci trova in questo momento un po' scoperti. Quindi io credo che sia molto importante sapere che l'elemento della sicurezza militare è un elemento che è alla base della pace, altrimenti di che cosa stiamo parlando, e che soprattutto una forza militare non si giudica unicamente dai mezzi materiali che ha, ma si giudica soprattutto dalla legittimazione che ha all'interno della società. Ecco, io credo, ma è la mia opinione personale, che l'Italia, le forze armate italiane abbiano un grado di legittimazione molto superiore a quello di Paesi più potenti di noi e questo sicuramente è un buon segno, io credo, per il nostro Paese ed è comunque, se non è un'analisi obiettiva, è quantomeno una mia impressione. L'Italia sotto questo profilo è messa relativamente bene e quindi nel ringraziarla proporrei di applaudire con l'ammiraglio Cavodragone tutti coloro che facendo il suo mestiere ci fanno sentire più sicuri. Grazie, ammiraglio. E adesso, fra pochi minuti e fra dieci minuti, la tavola rotonda finale sul che fare, punto interrogativo.